come avevo detto al bandiere scorso la nostra settimana è consagrata a Isanti e a Ieja di Gorsica chi dice Isanti dice a morte e si pensa dando a tutti i rituali che accompagnano il suo bersedio sono sempre stati numerosi e gorsi, pesanti, a rendo maggio ai zoi sparidi abri murai morti si esprime in pareti e maniere sopra tutto attraverso la vede in Sastonda più che più i cristiani batteno i gimideri ici c'è anche il momento dell'anno in cui tutti rendono visite a loro cimettiere familiare le cimettiere che l'on nettoia, le cimettiere dove l'on allume delle bugie come pensare alla Toussaint e ai giorni morti senza pensare a queste cimettiere? il faut parler a ses maures, il faut lui en dire ce qu'on a sur le coeur doucement, avec le coeur, et les larmes qui n'en sortent pas moi je veux un creux avec du ciment dedans, me colle dedans, hein, pas des machins des catafralques et des machins, pour dire oh il a une belle tombe, elle a une belle tombe j'ai peur qu'ils sortent et après ils me prennent cimenter, mais je préfère sortir come per ogni vista religiosa, la roba mondiale accompagna il corso secondo dei luoghi si brebà urbane, serviade, bastille, corcogne e parecchie altra affare où onniva a Tugugia, chaque des patates et caçan de about tradizionale o muscogine di a peso morti da un trattene o liamme ma di no pes parte cui vivi i patati di gusto sono buono ma è gelato gusto con dei geni gotti andate a darli alla gente del paese faccia parare a me bambina ha calciato uno con il patria che era nindolo qualcosa a qui da loro al di là di l'ommaggio il periodo di isante porta ognuno a rivlette non taro della diavita so i ridi che hanno costruito la relazione particolare di gorsi qua morte una società a cavallo tra i due mondi a